Trascorso il giorno di festa va a trovare l'esperto di Auschwitz e mostra la documentazione che ha raccolto su Reineck e la lettura del museo di Oswiecim e l'esperto dopo averla scorsa si stupisce quando legge che Leon è rimasto più di un mese nelle baracche di quarantena. Strano, dice, non è usuale così tanto tempo. L'altro spiega, per me è importante ogni piccola cosa, anche i numeri, vede? Bertrand ha il numero immediatamente precedente a quello del padre, vuol dire che Bertrand forse è stato più coraggioso di Leon, vuol dire che voleva proteggerlo, che si era messo davanti al padre, che lo precedeva. Per me è importante questo particolare perché anche nella sequenza di due numeri tatuati io posso capire qualcosa. Non è come lei crede. È invece esattamente il contrario, perché è chi è il numero più alto che protegge l'altro, dice l'esperto e si alza dalla poltrona dietro la scrivania, mi mando un'inesistente fila al fianco della libreria. Vede, i padri stanno sempre dietro i figli, gli mettono una mano sulla spalla, li abbracciano. Non potrebbero se i figli fossero dietro di loro. Sono i padri che stanno sempre dietro. Immagini la confusione, gli strattoni, la paura. Le file vengono formate a forza di colpi di frusta, di bastone. La gente si separa, piange, grida. È disperata. Gli amici che si erano giurati eterna vicinanza si separano. I fratelli si allontanano sospinti dal caso, ma i padri e i figli sono sempre assieme al momento del tatuaggio. I padri e i figli sono sempre assieme. Prima i figli e poi i padri. È sempre così. I padri proteggono i figli. Per la giornata della memoria mi sembrava giusto leggere questo breve brano. Un romanzo che io ho amato molto, letto quest'anno. Grazie. Grazie per l'attenzione.